Oggi ci troviamo sulla demo di Resident Evil 7 e come vedete dal video il gioco è cambiato moltissimo rispetto ai capitoli precedenti della saga. Questa demo si presenta come un'avventura in prima persona e si svolge completamente all'interno di una singola abitazione. Le azioni che il giocatore è in grado di svolgere all'interno di stanze e corridoi sono ridotte ai minimi termini. Si cammina aprendo una porta dietro l'altra, si leggono documenti per cercare di ricostruire il filologico del racconto e si trovano oggetti importanti per proseguire. Sul lato enigmi speriamo che nel gioco completo, che a meno di rinvio uscirà il 24 gennaio 2017, siano ispirati e degni dei primi capitoli della serie. Le impressioni positive degli utenti dopo aver giocato la taser demo PT di Konami, hanno spinto Capcom a seguire la stessa via e a cambiare totalmente le carte in tavola per la serie Resident Evil, puntando su esperienze incentrate completamente su sensazioni claustrofobiche e jumpscare, che almeno nella demo non hanno convinto appieno, poiché prevedibili. Speriamo quindi che nel gioco completo siano ispirati e degni del nome che il videogioco porta. Questa taser demo è servita a Capcom per mostrare ai videogiocatori la nuova strada intrapresa ed il nuovo motore di gioco chiamato ore engine. Nella speranza di ottenere nuove informazioni il prima possibile, vi lasciamo ad alcune parti finali della taser demo e ad un procedimento per ottenere un'arma serieta da nel gioco. Un saluto da Ludami Gamers. direi che questo posto è stato abbandonato? 3 anni. Andre! Andre! Clancy, hai visto dove Andre è andata? Tu devi essere f***ing kidding me. Ok, new deal. We find Andre e and we go. I mean, f*** questo show. Grazie! AHHH! Ah! 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 I know I should've wore my good shoes. Oh, shit. Glad I had my shots. Although, this would make a great backdrop. Andre, what do you think? Andre? Andre! Andre! Clancy, you see where Andre went? Andre! Andre! Andre!